Benvenuti a BP Cube in Forma. Diamo il via al format e alla prima delle cinque puntate che con cadenza bisettimanale vi forniranno informazioni e importanti spunti di riflessione su argomenti, temi sempre diversi ma strettamente interconnessi tra di loro al fine di trovare possibili soluzioni. Abbiamo con noi Moreno Bordoni, segretario territoriale CNA per Pesaro Urbino ed Enrico Battistelli, fondatore di BP Cube, incubatore certificato. Parliamo oggi di start-up e nuove imprese, costi, burocrazie e tante tante difficoltà per avviare una nuova azienda. Intanto benvenuti, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie del gentile invito. Buongiorno a tutti voi e benvenuti nella nostra casa. Le piccole e medie imprese rappresentano il motore dello sviluppo economico. In questa giornata vorremmo capire, vorremmo scoprire quale potenziale potrà emergere dal lavoro congiunto di CNA e BP Cube. Io entrerei subito nello specifico, iniziando nel raccontare quali sono le caratteristiche fondamentali di queste due importanti realtà del nostro territorio. Buongiorno, la CNA è un'associazione di categoria che associa all'interno della provincia di Pesaro Urbino quasi 6.000 imprese e abbiamo altrettanti pensionati iscritti alla nostra associazione. Quindi una grandissima famiglia che da oltre 70 anni segue il territorio, segue la micro, piccola e media impresa e con grande orgoglio si affaccia al futuro per essere sempre un punto di riferimento importante per chi vuole, come nel nostro territorio, un cittadino su 9 intraprendere. Grazie a tutti. BP Cube è un incubatore certificato di start-up. Lo fa da 7 anni e tra pochissimi giorni arriviamo ad 8. Quindi coltivando la passione, la consulenza nel far nascere nuove imprese, anche per noi questi quasi 8 anni diventano veramente tanti anni visto che ogni giorno passano da noi tantissime numerose start-up, giovani, meno giovani, creativi, che vogliono creare ed aprire un'impresa. Sono davvero tante quelle che sono passate e ogni giorno, proprio qui a Pesaro in via degli Abeti, succede tutto questo. Si parla tanto di start-up, neo-aziende, nuove imprese, meglio ancora se condotte da giovani. Sono previsti incentivi e anche fondi, fondi nazionali, fondi regionali e nello specifico per quanto riguarda Pesaro agevolazioni anche in merito ai tributi comunali. Ma il nemico di sempre, il nemico delle aziende nuove e vecchie rimane pur sempre la burocrazia, Moreno? Assolutamente sì, da uno studio nazionale che ogni anno aggiorniamo, anche con i dati della provincia di Pesaro Urbino, emerge fortemente questo grandissimo problema. Per aprire un'impresa ci sono in media oltre 80 pratiche, costi circa 20.000 euro di costi, ma soprattutto dobbiamo fare queste pratiche presso 26 enti. Quindi un Moloch imbattibile, una grandissima barriera e quotidianamente si parla di start-up, ma in effetti aprire un'azienda nel nostro paese non è affatto facile. Semplificazione delle burocrazie e snellimento della pubblica amministrazione, ridurre costi, ridurre burocrazie è sicuramente necessario, ma purtroppo non sufficiente. A questo punto vorrei chiedere a Enrico qual è il ruolo fondamentale, giunti a questo punto, ecco, di un incubatore certificato MISE. Sì, condivido le parole di Moreno, anche se l'incubatore generalmente è per, in qualche modo, non statuto, ma nel DNA, le aziende che apriamo e facciamo costituire sono generalmente legate ai servizi, al mondo del digitale, al mondo dell'innovazione spinta, come i brevetti, tutto ciò, diciamo, che è al di fuori della normale artigianalità. Non che questa non ci sia, non che questa non sia un tema importantissimo, anzi lo è, però le start-up godono di un beneficio, quello di potersi costituire con minor pratiche burocratiche. Proprio per questo l'incubatore riesce a ottemperare queste pratiche in maniera più veloce, un po' più snella. Rimangono sempre tante e, come diceva Moreno, assolutamente sì, per una start-up che opera sul digitale non sono così numerose, ma comunque tante. L'incubatore le può snellire soprattutto grazie all'incubatore certificato MISE e queste operazioni possono essere fatte all'interno dell'incubatore, non sempre solo con il notaio, ma anche grazie ad avvocati. Quindi i nostri soci, ad esempio il nostro socio avvocato all'interno dell'incubatore, può far costituire una start-up innovativa. Com'è possibile a questo punto pensare che CNA e BP Cube possano fare sistema per incentivare i talenti e promuovere l'innovazione? È possibile e doveroso, nel senso che abbiamo praticamente gli stessi obiettivi. Cercare di aiutare i giovani a intraprendere, ma intraprendere nella maniera più seria, più sana, per poter portare a regime negli anni quello che è il grande entusiasmo dell'idea iniziale imprenditoriale. Sia noi che BP Cube lavoriamo in modalità molto seria per mettere nelle condizioni questi ragazzi, di avere la certezza del futuro. Vanno incontro a tante burocrazie, a tante cose che devono temperare. Noi siamo qui apposta e insieme si potrà sicuramente fare quella massa critica, quel sistema e quelle modalità di lavoro condiviso che possono dare dei ragazzi le certezze. In questo momento i giovani hanno bisogno di sapere che la loro idea avrà un futuro. Sì, è fondamentale che questa rete cresca, fondamentale che il network si rafforzi. Lo stiamo spingendo e raccontando a tutti i livelli di sistema provinciale, regionale e nazionale. Facciamo parte di una rete di 30 incubatori certificati in Italia, che è un numero sì ridotto, ma se pensiamo che questa rete attualmente si rafforza con tutto il mondo universitario, dei centri di ricerca tecnologica, è diventata oggi invece una grande potenza, veramente, o una freccia al nostro arco da poter spendere e grazie a CNA, grazie a tutte le associazioni, si potrà finalmente fare sistema. Leggi, bandi e fondi sono fondamentali per l'ecosistema delle start-up. Qual è a questo punto il ruolo fondamentale di CNA e di BP Cube per sfruttare al meglio le opportunità del recovery plan? Allora, innanzitutto il nostro ruolo è un ruolo importante nella costruzione dei bandi, perché noi abbiamo rapporti, sia noi che BP Cube, quotidiani con le istituzioni che devono mettere a regime i bandi, quindi diamo tutti i suggerimenti importanti, perché alla fine un bando è davvero un bando azzeccato quando risponde alle esigenze dell'imprenditore, altrimenti se vengono fatti bandi senza conoscere la reale necessità dell'imprenditoria in generale, sono bandi che purtroppo rimangono lì e non hanno il giusto risalto. Poi, ovviamente, il lavoro che facciamo è un lavoro di informazione molto puntuale per i nostri imprenditori, per capire e sapere se sono nelle condizioni di partecipare a quali bandi e come partecipare e poi, ovviamente, portiamo a regime questo facendo le pratiche del bando e accompagnando in tutta la trafila ovviamente gli imprenditori interessati. La stessa cosa fa BP Cube, quindi ovviamente anche qui abbiamo degli obiettivi molto comuni che devono essere messi a regime meglio per poter davvero scaricare a terra tutte le opportunità che ci sono per i nostri imprenditori. Sì, BP Cube opera nei campi dei bandi, nell'innovazione, in maniera molto spinta, lo fa con esperti del settore. Generalmente i bandi che seguiamo sono sì regionali e nazionali, ma parliamo molto di più di investimenti legati al mondo anche di Invitalia e soprattutto di fondi di investimento. Quindi un concetto che un pochino va al di sopra, ma in senso tecnico, perché in quel caso il fondo di investimento è il bando specifico per la start-up, ha bisogno anche di attori molto competenti, anche all'interno dell'azienda stessa, molte volte in sinergia con la stessa azienda. Quindi noi ci poniamo anche da attori sinergici della start-up, della nuova impresa, della nuova azienda, che deve percorrere questo percorso. Lo facciamo anche noi, raccontandolo sia nella nostra sede, ma soprattutto con l'utilizzo del sito internet, che sta avendo una evoluzione incredibile, si sta trasformando nei prossimi giorni, settimane, lo vedrete nella nuova veste, in cui sarà un catalizzatore, come tu prima definivi, proprio questo strumento e che possa informare veramente a fondo tutti i nostri stakeholder del territorio e non solo. Benissimo, vediamo questa collaborazione sempre più forte, sempre più integrata, soprattutto perché sia CNA sia BP Cube forniranno tante informazioni ai nuovi imprenditori, gli imprenditori già in essere e soprattutto oltre alle informazioni forniranno dei corsi di formazione, forniranno eventi ai quali si potrà prendere assolutamente parte. Ma adesso, tornando ad Enrico, abbiamo anticipato qualcosa in merito a questo nuovo sito e vorrei anticipare qualcosa anche in merito a BP Cube, che presto accoglierà anche ID106. Sì, è così. ID106 o Innovation District, per i più amanti del termine e della sua significato più profondo, più prossimo, sa benissimo che è il co-working principale nato a Pesaro, grazie all'esperienza proprio di tutti i componenti dello staff e del nostro gruppo operativo, che ha saputo trasformare questa grande volumetria, prima una scatola vuota, in un grande co-working, perché oggi sono 1200 metri quadrati di spazi condivisi e funzionali, allo scopo di chi deve creare una nuova impresa spendendo veramente pochissimo, perché la facilità di un co-working dove entri non devi pensare a bollette, a fibra, internet, perché qui troverà tutto. Era nato con lo staff di ID106, è stata una nostra start-up, è stata una nostra scommessa vinta, e dopo 5 anni interi di lavoro, come ben sappiamo, le start-up finiscono un ciclo vitale, abbiamo ben pensato di accoglierle nella nostra casa, come dicevo all'inizio, e quindi ID106 si fonde con tutto lo staff e con tutta l'operatività di BP Cube, e quindi sarà BP Cube Innovation District quello che avrà l'incubatore, l'acceleratore, questo grande spazio di co-working, finalmente riunito insieme, ed è per questo che parlavo del nuovo sito internet come uno spazio multiforme, ma dove trovare veramente tutte le risposte alle esigenze, sia degli imprenditori che delle start-up. Grazie. Torniamo a CNA. CNA è la valorizzazione dei talenti. Qual è il ruolo che CNA può sostenere fortemente anche, chissà, in collaborazione più stretta con BP Cube? Ma cercare nuovi talenti imprenditoriali è proprio parte del DNA della nostra associazione, tanto che ogni anno noi abbiamo il premio Cambiamenti in CNA, che è un premio regionale che poi arriva anche addirittura a livello nazionale. L'anno scorso ovviamente per la pandemia questo premio non c'è stato, ma nel 2019 quasi mille aziende a livello nazionale hanno partecipato, mille start-up, 21 si sono giocate il premio nazionale, e quindi una grande opportunità non soltanto di vincere un premio in denaro, ma soprattutto di far parte di un network e di essere messi nelle condizioni di poter poi da questa start-up diventare un'azienda strutturata negli anni. Questo è il nostro lavoro, un lavoro che facciamo costantemente, lo faremo sempre di più anche in connessione con incubatori come BP Cube, perché sono fondamentali per il nostro territorio, ma dobbiamo assolutamente mettere a regime quelle opportunità che i nostri ragazzi che hanno idee straordinarie, perché anche nel nostro territorio, nella nostra provincia, ci sono davvero dei geni, che però spesso incontrano difficoltà enormi nella parte vera, burocratica, quotidiana del lavoro, che istituzioni come le nostre devono facilitare, loro devono pensare a lavorare, a lavorare bene, e noi a metterli nelle condizioni di fare bene il loro lavoro. Bene, siamo giunti ormai alla conclusione di questa puntata, ma prima dei saluti vorrei anticiparvi l'argomento della prossima puntata. Parleremo di giovani di territorio e di networking, come capitalizzare sui giovani per un nuovo rinascimento delle marche, e avremo ospite il consigliere regionale e avvocato Nicola Baiocchi. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e approfitto per ringraziare anche Moreno Bordoni ed Enrico Battistelli. È stato un piacere essere qui con voi e soprattutto parlare di un argomento così interessante. Grazie a tutti voi, ci rivedremo presto, come hai sapientemente detto, e soprattutto vorrei lasciarvi anche con questa promessa che BPQ e CNA troveranno subito delle nuove sinergie forti sin da oggi. Grazie. Grazie a tutti.